Sabato 14 marzo 2015 si è svolto il 25esimo convegno della Diaconia, organizzato dalla CSD Diaconia Valdese e per la prima volta dall'AFGEI, la Federazione Giovanile Evangelica in Italia. L'incontro si è svolto nell'Aula Magna della Foresteria Gould di Firenze. Tema del convegno era il lavoro, parte fondamentale della vita di ognuno e ognuna e risorsa così carente nel periodo di crisi. Nel convegno, molto partecipato, soprattutto da giovani operatori e responsabili delle strutture della Diaconia Valdese, l'argomento è stato declinato sotto tre punti di vista. Il diritto al lavoro, i talenti che ognuno di noi vorrebbe mettere in gioco nella propria professione e il lavoro come vocazione. L'incontro si è aperto con la meditazione del segretario dell'AFGEI Stefano Bertuzzi attraverso la riflessione sul sale della terra da Matteo 5, versetti da 13 a 16, che ha sottolineato lo smarrimento delle giovani generazioni che sentono di non avere più la possibilità di affidarsi al lavoro per trovare il proprio posto nel mondo. Dopo il saluto del presidente della CSD Giovanni Comba, il pastore Francesco Sciotto ha moderato gli interventi dei tre relatori invitati. Rita San Lorenzo, magistrato e consigliera della sezione lavoro della Corte d'Appello di Torino e per anni giudice del lavoro, ha ricordato come ci stiamo allontanando dai paradigmi di diritto e dignità che la Costituzione ha fissato. Solo ritornando all'aspetto collettivo del lavoro sarà possibile tornare a intenderlo come mezzo di liberazione. Coltivare processi soltanto personali rende tutti privi di difese. Il formatore e coach Cristiano Ghibauto ha evidenziato come il periodo di crisi sia indiscutibilmente un periodo di domande. Occorre farci quelle giuste, soprattutto su di noi e sul nostro posto nella società. Infine Daniele Garrone, docente di Antico Testamento della Facoltà Valdese di Teologia, ha fatto un escursus sul lavoro nel testo, espresso come necessità ma anche come strumento di dignità, anche dell'Antico Testamento. La rivoluzione luterana ha esteso il concetto di vocazione a tutti i campi in cui si può spendere la propria vita. Non ultimo il lavoro. Nella seconda parte della mattinata i laboratori nei gruppi animati dai membri dell'AFJ hanno permesso di entrare in stretto contatto con le declinazioni del tema offerte dall'incontro, a cui è seguita poi una restituzione in plenaria. Per l'AFJ è sicuramente una riflessione che abbiamo potuto avviare in un modo secondo me molto completo, molto complesso anche, non scontato, in un modo che forse non saremmo riusciti a avviare da soli con solo il nostro punto di vista, solo le nostre forze. Quindi è stato un momento importante di crescita per i partecipanti ed è stato un momento importante secondo me di collaborazione in cui la federazione si è anche un po' presa la responsabilità di rappresentare i giovani delle chiese evangeliche in Italia e appunto di portare questa rappresentanza a dialogo con la Commissione Sinodale per la Diaconia che si occupa di lavoro sia come datore di lavoro sia però come agenzia di formazione. Quindi insomma siamo molto soddisfatti di questo inizio di collaborazione che speriamo possa continuare magari in altre forme. Questa collaborazione della CSD con la AFJ è risultata molto impattante sul fronte sia dei partecipanti, forse è la prima volta che abbiamo dei partecipanti così mischiati fra generazioni nuove e intermedie e generazioni un po' più mature, sia sul fronte dei contenuti e anche dei linguaggi utilizzati. Abbiamo avuto nel corso della mattinata diversi linguaggi che appunto si adattavano alcuni più a un pubblico più giovane, alcuni erano dei linguaggi un po' più datati però centrati poi comunque sull'argomento che era poi quello del lavoro che è un argomento che comunque interessa a tutti trasversalmente. La scelta di andare a calibrarsi su un tema come quello del lavoro dove la fascia giovanile è quella più in crisi rispetto a questo assetto qui e c'è questo conflitto dove quelli che hanno il lavoro, che sono i più anziani, sono in conflitto con i giovani a cui non lasciano lavoro, non hanno lasciato le condizioni per cui questi hanno lavoro. Quindi era chiaro che affrontare questo bisognava essere insieme. Grazie. Grazie.